Benvenuti all'oroscopo di oggi, 19 settembre. Scopriamo insieme cosa dicono le stelle per la vostra giornata. Buona fortuna e che le stelle siano con voi. Signoriete, serenità, concentrazione, serata tranquilla. Giovedì sereno, senza particolari ostacoli. Sentirete che le cose stanno tornando al loro posto. In mattinata dovrete occuparvi di lavoro o commissioni urgenti, ma non ci saranno intoppi. Con la giusta concentrazione tutto è possibile. La serata sarà tranquilla e molti di voi la trascorreranno davanti alla tv o chiacchierando con una persona amabie. Dovreste tenervi alla larga dalla gente tossica e maligna? Non avete bisogno di rovinarvi l'umore dietro a loro. Chi non avrà impegni per il giorno seguente potrà concedersi una lunga dormita. Voi della riete sarete spronati cercare modi innovativi per risolvere problemi lavorativi o personali. Sarete più intraprendenti e pronti a rompere schemi consolidati che non vi soddisfano più. Preparatevi a un improvviso cambiamento di prospettiva che vi permetterà di affrontare le situazioni in modo diverso dal solito. È un buon momento per mettere in atto idee originali che finora avete tenuto da parte. Segno toro. Relax serale, cambiamenti recenti, passione e avventura. Dopo una lunga settimana, c'è chi potrà riposare e chi invece avrà molto da festeggiare. Ci sono stat novità o cambiamenti. Delle cose, forse non sono andate come sperato e questo potrebbe avervi appesantito. Ad ogni modo, la serata porterà relax e un senso di appagamento. Le coppie avranno modo di trascorrere del tempo di qualità insieme. Anche se l'estate è finita, la passione e il desiderio di avventura non sono svaniti. Anzi, in famiglia sembrano esserci delle lacune da colmare. Ma se qualche elemento è testardo e maligno nei vostri confronti, dovreste passarci meno tempo insieme. Per voi del toro. Qualcosa vi porta a una voglia di trasformazione che si combina perfettamente con il rigore del sole in vergine. Domani sarà una giornata di rinnovamento, soprattutto in ambito economico e pratico. Potreste trovare soluzioni innovative per gestire le vostre risorse o intraprendere un nuovo progetto che vi darà grande soddisfazione. Non temete di abbandonare vecchie abitudini. Il cambiamento sarà positivo. Segno gemelli. Recupero energie. Equilibrio tra vita personale e lavoro. Tentazioni alimentari. Se durante la settimana avete trascurato certe questioni importanti, questo sarà il momento giusto per rimediare. Non è facile gestire ogni cosa, tra casa, lavoro e famiglia, ma l'importante è cercare di non rimanere indietro e fare il più possibile. Fatevi aiutare. Avrete voglia di pizza? Dolci o entrambi. Ma se siete a dieta, fate attenzione a non vanificare gli sforzi fatti finora. Per voi gemelli. La giornata di domani sarà ricca di stimoli intellettuali. Sarete spinti a esplorare nuove idee e a rompere gli schemi tradizionali che finora avete seguito. Sarete ispirati a trovare soluzioni originali ai problemi quotidiani, soprattutto in ambito lavorativo. Prestate attenzione a ciò che vi circonda. Una conversazione o un incontro inaspettato potrebbe aprirvi nuove strade. L'entusiasmo di coppia tornerà a illuminare la vostra quotidianità, soprattutto grazie alla possibilità di fare delle sorprese o organizzare delle esperienze speciali insieme al partner. Questo periodo sarà ideale per riscoprire la complicità e la gioia di condividere momenti unici. L'amore diventerà un rifugio sicuro, capace di portare nuova energia nella vostra vita di coppia. Segno cancro, aondacia, sfide superate, sorprese inaspettate e amore intenso. La vostra vita è una montagna russa di sensazioni. Avete vissuto un passato complicato e la settimana è stata impegnativa. A partire da questo giovedì intravedrete la famosa luce in fondo al tunnel. Sarete pronti a librarvi verso i vostri sogni. Mettete voi stessi al primo posto e non date troppo ascolto alle critiche dei familiari o al parere della gente. In queste 24 ore potrete sfoderare la vostra ondacia e provare a sfidare la fortuna. Le sfide verranno superate. Se avete fatto una promessa, cercate di mantenerla. La serata sarà all'insegna del divertimento, con possibili sorprese inattese. Potreste fare le ore piccole, soprattutto se il giorno seguente non avrete impegni. L'amore sarà intenso, anche se alcuni nativi potrebbero avere problemi personali. Cancro. Vi sarà data l'opportunità di risolvere situazioni familiari o emotive che vi hanno causato stress. Sarete più flessibili e aperti a trovare soluzioni che in passato non avevate considerato. Lasciatevi ispirare da questa energia di cambiamento che vi aiuterà a raggiungere maggiore stabilità emotiva. Il consiglio degli astri è di non aggrapparvi al passato, ma di accogliere le novità con fiducia. Segno Leone. Cari Leone. Domani sentirete il bisogno di rivisitare vecchi progetti con un approccio completamente nuovo. La vostra creatività sarà alle stelle e saprete come trasformare anche le sfide più complesse in occasioni di successo. Tuttavia, fate attenzione a non imporvi troppo sugli altri. Il cambiamento può spaventare chi vi circonda. Urano vi stimola a essere più flessibili e aperti a soluzioni alternative. Emozioni forti. Nuovi progetti e cambio di look. Con la luna dalla vostra parte potrete trascorrere una giornata magnifica. Anche se alcuni di voi potrebbero sentirsi un po' disorientati. In generale, riuscirete a gestire i vostri impegni e a recuperare eventuali ritardi. In serata trascorrerete del tempo prezioso con le persone care. Sono possibili uscite e momenti di forte emozione. Giornata perfetta per avviare nuovi progetti o per un cambio di look. L'amore sarà il pilastro della vostra serenità. Nonostante qualche divergenza, il partner potrebbe venirvi incontro con grande disponibilità. E fare lo stesso sarà essenziale per mantenere un equilibrio positivo nella relazione. Buone notizie potrebbero arrivare dalla famiglia, rendendo la giornata più piacevole. Approfittate di questa armonia per rafforzare i legami e risolvere eventuali incomprensioni. Segno vergine. Energie negative e conflitti familiari. Dopo una settimana movimentata, sarete a dir poco esausti. Sentirete il bisogno di lasciarvi tutto alle spalle e voltare pagina. È importante non mescolare questioni lavorative con quelle private. È meglio stabilire dei confini chiari. Chi dovrà lavorare anche nel fine settimana avrà difficoltà a mantenere la concentrazione. Possibili tensioni familiari? Ci sono situazioni che non tornano. Vergine. Il sole è nel vostro segno e vi dona grande lucidità. Mentre Urano in Toro accende la vostra voglia di sperimentare. Domani avrete la possibilità di riorganizzare la vostra vita, trovando modi più efficienti per gestire il quotidiano. Potreste ricevere una notizia o un'opportunità che vi spingerà a prendere decisioni inaspettate. Lasciatevi guidare dall'intuizione. Sarete sorpresi dai risultati. La giornata sarà all'insegna dell'affetto e della vicinanza con le persone a voi care. Non ci sarà nulla di più gratificante che avere accanto chi amate. Anche i nuovi incontri saranno carichi di sentimenti positivi e gioia. Rispetto al passato, vi sentirete molto più felici e appagati. E questa felicità si rifletterà in tutte le aree della vostra vita. Lasciatevi andare a questa ondata di emozioni. Segno bilancia. Bilancia. Il cielo di domani vi invita a riflettere sui vostri rapporti personali e professionali. Qualcosa potrebbe portare cambiamenti repentini nelle relazioni, spingendovi a rivedere vecchie dinamiche. Non abbiate paura di prendere decisioni coraggiose. Questo aspetto astrologico vi spinge verso un futuro più autentico e soddisfacente. Lasciatevi guidare dal desiderio di armonia e innovazione. Calo energetico e influenze lunari. Le previsioni parlano di un calo fisico e mentale. Vi sentirete particolarmente spossati e privi di energie a causa di una settimana che vi ha messi alla prova. Nonostante la stanchezza, avrete delle questioni da risolvere che non possono essere rimandate. Sentirete l'essetto della luna in ariete, vostro segno opposto, e ne pagherete le conseguenze. Limitatevi al minimo indispensabili. A sera crollerete di stanchezza e non avrete voglia di vedere nessuno. Sarete maggiormente inclini ai litigi pazientate. Da domenica le cose andranno meglio. Segno scorpione. Concentrazione. Sfide da superare. Fiducia in se stessi. Le stelle vi permetteranno di riprendere fiato. Ma prima dovrete sistemare alcune questioni legate alla casa o al lavoro. In amore sembra esserci dell'incomprensione o una certa distanza. Chi sta insieme da anni dovrebbe sforzarsi di cercare di riaccendere la fiamma di un tempo. Chi studia avrà una mattinata impegnativa e aspetterà con ansia il pomeriggio. Gli ostacoli sembrano insormontabili solo se ci si convince che non possano essere superati. Abbiate più fiducia in voi stessi e nelle persone che amate. Per voi scorpione, la giornata di domani porterà delle sorprese. soprattutto in ambito relazionale. Qualcosa potrebbe portare un improvviso cambiamento nelle vostre interazioni, spingendovi a rivalutare certi legami o a stabilire nuove connessioni. Non siate diffidenti verso le novità. Questo aspetto vi invita a lasciarvi andare e a sperimentare nuove forme di connessione e di comunicazione. Segno sagittario. Sagittario. Il trigono tra il sole in vergine e urano in toro vi offrirà nuove prospettive su situazioni lavorative o legate alla vostra salute. Avrete la possibilità di adottare abitudini più salutari o esplorare percorsi professionali diversi. Siate aperti a idee non convenzionali. Il cambiamento potrebbe arrivare in modo inaspettato, ma sarà vantaggioso. Il cielo vi invita a fidarvi delle vostre intuizioni e a non temere le novità. Giornata intensa. Appuntamenti importanti. Hobby rilassanti. In questo giovedì sarà impossibile annoiarsi. Avrete la fortuna dalla vostra parte. La mattinata vi vedrà impegnati in commissioni che potrebbero riguardare la banca, la posta o il parrucchiere. Dopo pranzo avrete finalmente tempo per rilassarvi e dedicarvi ai vostri hobby preferiti. Leggere, cucinare, guardare la tv o fare l'amore con la persona che avete accanto. Durante la settimana avete atteso con ansia un certo appuntamento che si svolgerà proprio nel pomeriggio. Pettegolezzi e novità sono in arrivo. Segno capricorno. Cari capricorno, sarete aiutati a trovare soluzioni innovative per questioni professionali o personali che vi stavano a cuore. Il cambiamento, sebbene lento e ponderato, sarà inarrestabile. Domani potreste sentirvi attratti da nuove tecnologie o da modalità lavorative non convenzionali, che miglioreranno la vostra produttività. Abbracciate il nuovo con calma e determinazione. Cambiamenti imminenti e difficoltà emotive. Saranno 24 ore altalenanti, ma domenica la situazione migliorerà. Non ci saranno grandi problemi, ma chi sta attraversando un momento difficile potrebbe sentirsi ancora confuso. Non lasciatevi abbattere dagli eventi. Cercate di vivere il presente il più serenamente possibile. Potreste sentirvi emotivamente distanti dalle questioni sentimentali, mentre le dinamiche familiari vi daranno qualche preoccupazione in più. Sarà essenziale affrontare questi piccoli grattacapi il prima possibile, per evitare che si trasformino in problemi più grandi. Segno Acquario. Per voi dell'Acquario. Domani sarà una giornata particolarmente stimolante grazie all'influsso di Urano, vostro pianeta guida, in aspetto armonico con il Sole in vergine. Sarete spinti a pensare fuori dagli schemi, soprattutto in ambito lavorativo o riguardo ai progetti personali. È un ottimo momento per mettere in pratica le vostre idee più originali e per avventurarvi in nuove direzioni. Siate pronti a cogliere al volo le opportunità che si presenteranno. Sorprese negative, situazioni scomode e relax serale. La mattina potrebbe portarvi notizie o sorprese poco piacevoli. Ma non fatevi scoraggiare troppo. Non sempre le cose vanno come previsto. Ma ricordate. Domani è un altro giorno. Alcuni parenti o colleghi potrebbero cercare di coinvolgervi in situazioni scomode. Cercate di mantenervi distanti. Il pomeriggio andrà meglio. Potrete rilassarvi e dedicarvi ai vostri piaceri. Potrebbero esserci appuntamenti in serata. È arrivato il momento di concentrarvi su voi stessi. Prendetevi una pausa per soddisfare quei piccoli desideri che avete messo da parte per troppo tempo. Questo sarà un atto di amore verso voi stessi. Più prezioso di qualsiasi altra cosa che possano offrirvi gli altri. Segno pesci. Pesci. Il trigono tra il sole in vergine e urano in toro vi spingerà a rivedere il vostro approccio al quotidiano. Potreste scoprire nuove tecniche o abitudini che renderanno la vostra vita più semplice e gratificante. La giornata di domani sarà un'ottima occasione per innovare, sia in ambito lavorativo che personale. Lasciatevi guidare dalla vostra intuizione e non abbiate paura di rompere con il passato. Creatività in aumento. Passione e nuove conoscenze. L'oroscopo del 19 settembre vi posiziona ancora in alto. Per chi è in coppia, si prevedono momenti intensi, mentre i cuori solitari più estroversi potrebbero approfondire nuove conoscenze. Se siete all'inizio di una relazione, cercate di non essere troppo insistenti e di vivere le cose con calma. Nella giornata di giovedì la vostra creatività sarà al massimo, permettendovi di osare di più. Trascorrerete del tempo spensierato e la vostra felicità sarà contagiosa. La vostra naturale empatia vi renderà particolarmente abili nel comprendere i bisogni degli altri, soprattutto del partner. Sarete in grado di ascoltare con attenzione e di offrire conforto senza far pesare le vostre parole. Questo approccio non solo rafforzerà il legame, ma aumenterà anche la fiducia in voi stessi.